Oggi abbiamo fatto l'assemblea di Torino Socialimp 2023, è stata l'occasione per fare il punto sulla progettualità che è nata all'interno della rete, una rete importante, 270 oramai gli aderenti che hanno dato vita ad alcuni progetti significativi che vanno nella direzione di creare prototipi, esempi poi replicabili per tutta la rete, penso in particolare a Tech4Good, l'applicazione di tecnologie informatiche al mondo del terzo settore e alla borsa sociale, il tentativo di creare una borsa dedicata al no profit e che quindi tenga in considerazione non solo la redditività dell'investimento ma anche le ricadute e l'impatto sociale. A questo poi è collegato il centro per la valutazione dell'impatto ed altri progetti. Come dico è stata l'occasione per fare il punto su questi progetti e anche per ritrovarci di persona una volta all'anno e fare network anche per futuri progetti come quelli europei. Grazie a tutti.